La scelta di Greta, la giovane attivista svedese, vince un milione di euro con un premio in Portogallo e decide di devolvere i fondi ad associazioni che come lei si impegnano per l'ambiente. Monia Venturini. È più denaro di quanto io possa immaginare, dice Greta in un video postato sulla sua pagina Twitter. Quindi sarà tutto donato alle organizzazioni che come me lavorano per l'emergenza ecologica del pianeta. Commenta così l'attivista svedese il premio di un milione di euro assegnatole da un NG portoghese per la tenacia nel portare avanti le sue battaglie, si legge nelle motivazioni, e per la capacità di sensibilizzare i giovani sulle questioni del cambiamento climatico. La prima parte, 100.000 euro, andrà a SOS Amazonia, un'organizzazione impegnata per affrontare l'emergenza Covid-19 nella foresta pluviale brasiliana. Sempre da Twitter, in questi giorni, Greta lancia un appello ai capi di Stato e di Governo riuniti a Bruxelles. Pubblica un video sul cambiamento climatico e scrive Se le emissioni non diminuiscono, l'ammontare di carbonio che possiamo permetterci per restare sotto l'aumento di un grado e mezzo sarà bruciato in otto anni. Qualche giorno prima aveva inviato all'indirizzo dei 27 una lettera sottoscritta da 150 scienziati e celebrità, nella speranza che con la crisi del Covid l'Europa non dimentichi l'emergenza ambientale.